Voglio solo rettificare, Bella Vista non parlava con un ex giocatore del Bari, ma con, anzi, no, parla di ex giocatore bianco-rosso, Bella Vista parlava con un ex giocatore bianco-rosso. Devo chiudere però l'intercettazione, perché l'ex giocatore bianco-rosso dice, mi hanno chiamato già quelli del Bari, però domenica non gioca la Serie A. Si lascia scappare Bella Vista il 20 marzo, parlando con tale Daledo. L'obiettivo era proprio la partita di Parma, che poi sarebbe finita 2-1 per i bianco-rossi. Ripeto, in questo momento è difficile, è difficile proprio dare un senso a quello che è accaduto. Certo c'è una cosa abbastanza curiosa, lo dicevo prima a telecamere spente all'Avvocato Monaco, che curiosamente gran parte delle scommesse era indirizzata su partite il cui risultato non andava dalla parte degli scommettitori. Cioè, abbiamo dovuto parlare di scommesse esagerate per Inter-Lecce, che doveva finire 4-0 e finisce appena 1-0 per l'Inter. Abbiamo dovuto parlare di scommesse di Milan-Bari, che doveva finire in goleata per i rossoneri e finisce addirittura 1-1, non vince neanche il Milan. Come ti spieghi questo? Non è una cosa abbastanza strana. Non le sapevamo neanche fare, verrebbe voglia di dire che non le sapevamo. Enzo, non sono solo queste, ci sono questioni, ecco se tu vai a esaminare un po' perché oggi è sotto l'attenzione di tutti Napoli-Parma, dell'anno scorso tra l'altro, non di quest'anno. Perché il flusso improvviso e sostanzioso di scommesse è avvenuto nell'intervallo della partita. E quindi, poi visto il risultato, si ha l'impressione che scommettessero su tutto. Ora, magari è venuto più in evidenza il fatto dell'over, cioè il distacco, la differenza di tre gol. Però qui ho l'impressione che si scommetteva pure un altro po' anche sul nome del giocatore che doveva segnare. Cioè, sto esagerando ovviamente. Quindi ecco perché le partite diventano sempre di più nell'over. Perché chiaramente non è solo il discorso di over o non over. Si stanno verificando questi flussi di scommesse che cambiavano a volte tra il primo e il secondo tempo, a dieci minuti alla fine. Nel recupero addirittura c'erano cose pazzesche, cioè che uno doveva segnare nel recupero. Cioè, quindi ecco perché insomma... Allora, apriamo le telefonate. Ecco, noi vi diamo la possibilità, nonostante gli argomenti siano estremamente delicati, di dire la vostra indiretta. Però, una raccomandazione, non ergetevi a giudici, perché non è giusto in questo momento. Perché non c'è nulla in questo momento. Il suo corso diceva bene, l'avvocato Monaco, comunque va tutto verificato. Occorrono delle prove, non è che uno lo sbatti in galera o lo radi perché un'esercitazione dice che. Va tutto verificato. No Enzo, scusami, anche perché bisogna anche mettere nel conto che possono essere pure delle forme di ritorsione. Cioè, ti faccio un esempio. Tu sei deluso da un calciatore, che credevi amico, no? Perché magari questo non ti ha fatto affrontare un certo tipo di argomento. E allora, magari che cosa fai? Vedi un'immagine in televisione e fai il nome di questo perché vuoi far vedere magari che. Sì, 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 è stato chiaro. Cioè, della serie che finisce la partita, no? E vai al giocatore, ex amico tuo, e gli dici non vi siete impegnati tutto l'anno e ti impegni oggi. Ecco. Allora, tu a quel punto non sai, oppure magari un ex giocatore che dice tu non sai fare il capitano, quello non sa fare il capitano. Cosa ci può essere dietro una dichiarazione del genere? Magari potrebbe essere perché... Tutto è possibile. E cioè, quindi, ecco perché siamo in una fase veramente iniziale. C'è una piccoligna, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao. Voglio chiedere a te e anche al tuo ospite. Allora, innanzitutto, se per caso ci sono responsabili, giocatori del Bari, a me non di reale squadre mi interessa. Io parlo della mia squadra, che io sono stato tifoso, sono andato allo stadio, quindi ho fatto di quello veramente il cosiddetto male sangue, che devono pagare con le leggi nazionali che usano in Iraq. Dunque, poi, e quando riguarda... Se voi vi ricordate bene, adesso non voglio difendere il Mataresi, però se voi vi ricordate bene, negli anni 80, il presidente del Pita con i tanti diceva sarà un buon presidente, il pallone non capisce niente. Significa che prende, dà tanta fiducia a tanti giocatori, anche a tanti allenatori, io a questo mi volevo fermare. Ventura, Ventura, e io condivido la vostra linea quando avete detto voi che doveva essere mandato da molto prima. Ventura ha sempre detto, Enzo devi fare vedere tutti i videoclip, diceva io voglio rimanere a Bari, voglio stare a Bari, è andato a Torino e vuole Barreto, quando nelle interviste lanciava delle frecciate a Barreto. Grazie Enzo, ciao. Grazie. Va bene, anche Kutuzov e Caputo, pare che voglia, insomma. Allora, sono leggi marziali, però io credo che il nostro amico ha esasperato il concetto. Però sono le vere vittime. La parte lesa è vero. Le vere vittime. Cioè veramente è preso per i fondelli. È vero, è vero, è vero. Infatti io l'ho sempre detto, poi alla fine c'è gente che paga per andare a vedere queste persone qui. E questo è drammatico, ha un effetto devastante. Mi auguro che serva anche da monito per tutti coloro i quali a volte esagerano. Cioè vedere quello che è successo in termini di ordine pubblico a Barilecce. Ecco, vorrei dire a quelle persone, visto quello che sta accadendo oggi, ne vale la pena rischiare la vita con le bombe e carte. Quindi da questo punto di vista, però, l'effetto sull'opinione pubblica, sul tifoso, sulla persona comune, sui 5.000 che vanno all'Olimpico, è devastante. Questo è forse il danno maggiore. Io credo che ci dovrebbe essere una sentenza che fa, come dire, fa giustizia rispetto ai tifosi sbeffeggiati, ai tifosi presi in giro. Ci deve essere un risarcimento. Perché credo che un giocatore, nel momento in cui scende in campo, si deve rendere conto che lui, per quanto è pagato così tanti soldi, proprio perché deve dar conto a migliaia e migliaia di persone. E quindi ci deve essere una sentenza al contrario, dove il giocatore dovrebbe risarcire, se ha fatto una cosa del genere, il pubblico. Allora capiranno forse cosa vuol dire giocare nel calcio professionistico o non professionistico, perché solo allora, quando tocchi il portafoglio, uno si rende conto che cosa... Perché ci deve essere questo. Perché il giocatore si deve rendere conto che prende, magari pur non essendo un grande giocatore, 500-600 mila euro l'anno, perché c'è tanta gente che perde la testa per una partita di calcio. E quindi se non entriamo in quest'ordine di idee, non se ne verrà fuori. Occorre una sentenza di questo tipo, perché al giocatore gli dai tre mesi, quattro mesi, cinque mesi. Se uno poi a quella mentalità lo rifà, o comunque... Sì, non gliela cambi così. Non gliela cambi facilmente. Io credo che davvero debba andare in questa direzione, cioè delle punizioni esemplari che debbano essere d'esempio. Allora io non vorrei però ignorare l'altro argomento del giorno, cioè Matarrese che lunedì lascia l'incarico di Presidente del Bari e affida il timone del club a Garzeli. Per carità, io credo che sia quasi un fatto simbolico, perché comunque la proprietà rimane sostanzialmente della famiglia Matarrese. Direi che la cosa che immagino è che si va verso una sorta di autogestione. In che senso? Credo che se sino ad ora i programmi cambiavano a seconda delle volontà, dei desideri, per cui a un certo punto Matarrese investiva per fare la squadra per i seri in Serie A, credo che adesso i soldi che verranno spesi sono esattamente quelli che avranno in cassa. Cioè i soldi derivanti da diritti televisivi, incassi, vendita di calciatori, al netto ovviamente delle spese per gli stipendi, quelli diventano i soldi per agire. Credo che si vada verso un'autogestione, che guarda caso, ancora una volta, devo dire che sembra un fatto strano, ha comune a Bari e Lecce? Perché anche a Lecce si parla di questo. Mi hai tolto le parole di bocca, insomma. Sembrano veramente due situazioni. Certo, a Lecce è un po' più paradossale, perché dopo il campionato che hanno fatto, diciamo che per quello che è stato il campionato del Bari, l'esito del campionato del Bari, non dico che era prevedibile, però forte scoramento, demotivazione, erano tutte cose da mettere nel conto e ho l'impressione che questa volta, a differenza di altri casi analoghi, il Presidente penso non abbia mollato, nel senso che proprio a livello di motivazioni non lo vedo più reattivo come era prima. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Prendiamo, no, deve andare in pausa pubblicitaria, allora pubblicità, poi torniamo insieme con il Biancheroso di Sport.